Se guardiamo con attenzione le attrezzature adottate dagli speleologi, ma anche dai vigili del fuoco Nucleo SAF, noteremo che almeno il 90% di loro sui caschi montano una torcia molto particolare, si chiama Duo, della ditta PESEL. I cataloghi PESEL del 2018 stanno proponendo nuove lampade, quindi molto probabilmente la Duo verrà sostituita, come dice un mio amico del Nucleo SAF. Però per tantissimi anni è stata egregiamente a servizio degli addetti ai lavori. Oggi ve la voglio presentare. La prima cosa che ci salta all'occhio è che si tratta di una lampada connessa, ovvero composta essenzialmente da due unità, il pacco batterie dietro la nuca e la lampada vera e propria. Entrambe le unità sono connesse da un cavo esposto. Ma adesso scendiamo nei dettagli. Anzitutto è una frontale molto resistente all'acqua, IPX8, ovvero sa mantenere la sua tenuta stagna fino a 5 metri di profondità, cosa insolita per molte lampade frontali tradizionali. Infatti, da come possiamo vedere, il pacco batterie ha una chiusura composta da due ganci a leva, questo per chiudere ermeticamente i due componenti che formano il pacco batterie, ovvero l'involucro esterno e il portabatterie stesso. Questa lampada sfrutta le pile doppia A, ovvero le stilo, sia ricaricabili che quelle usa e getta. Da qui la tensione elettrica percorre il cavo ed arriva al corpo lampada. Quest'ultimo ospita due unità di luce, ossia una lampada alogena e a fianco una serie di LED. Possiamo trovarla in versione a 5 LED oppure, come in questo caso, a 14 LED. Questo sistema serve essenzialmente per avere due tipi di fasci luminosi, ovvero uno spot che sarebbe un fascio stretto e lungo e una luce più diffusa. Queste sono le due modalità che in grotta si sono sempre rivelate ottimali. Per attivarle c'è un selettore a leva munito di un lock di sicurezza. I sistemi a leva sono estremamente comodi anche se si indossano i guanti. Se spostiamo la leva da un lato attiviamo l'alogena, mentre se la spostiamo dal lato opposto andiamo ad utilizzare l'unità a 14 LED, mentre se la posizioniamo al centro si metterà in modalità OFF. Dall'altro lato del corpo lampada troviamo una seconda leva, quest'ultima aziona lo zoom. Il tutto può essere smontato svitando questo cingolo di gomma, quindi anche se di forma ellittica può ruotare. Quindi si accede all'interno per fare eventuali riparazioni oppure inserire dei sistemi custom per ottenere una luce molto più potente. A proposito di potenza, i lumens non sono molti in questa lampada, anche perché durante un'esplorazione speleo non serve illuminare a grandi distanze, o almeno il più delle volte è così. Ad ogni modo non è l'unica torcia da montare sui caschi speleo, infatti possono essere provvisti di una lampada ad acetilene e in più la lampada elettrica, oppure l'altra variante che consiste in due lampade elettriche. Personalmente sul casco da speleologia monto questa lampada più un'altra da 200 lumens, in modo da avere all'occorrenza una luce che irradia a lunghissime distanze. Inoltre questo fatto di avere due lampade sul casco ci fa stare molto più tranquilli davanti all'idea che una potrebbe non funzionare più. Ultimamente possiamo vedere la Puzzle Duo montata sui caschi senza le sue fasce elastiche. I due moduli sono infatti avvitati sulla calotta del casco. Questa lampada, quando le batterie si stanno esaurendo, passa automaticamente in modalità sopravvivenza. Questa cosa, oltre ad essere un bel preavviso, ci permette di estrarre una terza lampada a mano e usarla per cambiare le batterie. Ecco perché non amo molto le torce che mantengono la stessa intensità di luce dall'inizio alla fine, per poi spegnersi di colpo e senza possibilità di inserire nuove batterie. Questo va bene se ci si trova all'aperto, ma non dentro una grotta, con passaggi molto stretti, in cui se si spegne di colpo la lampada si sta al buio pesto. C'è bisogno di una torcia che sia una nostra alleata, che ci dica quando sta per spegnersi e che ci dia la possibilità di farla tornare immediatamente operativa, inserendo velocemente quattro pile nuove. E queste possibilità la Puzzle Duo ce le offre alla grande. Detto questo, questa lampada la vedrete molto presto durante le mie nuove esplorazioni. Grazie.